Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, scriveva lo storico Burstein, ed è con questo spirito che il progetto di Etrarte, il numero 27 Osvaldo Parco Progetti Creativi, selezionato al premio Cultura Che Fare, vuole diventare un format di riqualificazione partecipata e creativa degli spazi urbani che spesso hanno bisogno di essere ripensati e riscoperti per risvegliarne il senso d'appartenenza, la loro storia e memoria. Siamo nel quartiere di Santo Osvaldo, alla periferia di Udine Sud, è una parte di questo parco vastissimo. Ci troviamo qui, qui sono gli stabilimenti del Dipartimento di Salute Mentale della città, oltre ad altri uffici regionali e comunali, insieme a cooperative ed associazioni, e qui è anche la sede della Comunità Novea e del gruppo Cipart, con i quali collaboriamo per realizzare questo progetto, il progetto Osvaldo. Gli abbiamo conosciuti durante il nostro ultimo lavoro, quello di Palazzo Contemporaneo, ci hanno coinvolto ed ora siamo qui ed abbiamo voluto accettare questa sfida. Il grande successo di Palazzo Contemporaneo, di cui Osvaldo vuole essere la continuazione, è stata la precedente iniziativa di Etrarte, una riqualificazione temporanea di uno spazio commerciale dismesso, l'ex Upim, nel centro storico di Udine. Nel mese d'apertura, aprile 2013, hanno gravitato attorno ad esso oltre 10.000 persone. Sono state coinvolte una ventina di realtà culturali territoriali, realizzando tra mostre, incontri, performance, laboratori, un vero centro culturale indipendente. Tra le associazioni c'erano anche Callipolis di Trieste, che si occupa di sviluppo urbano sostenibile, processi partecipativi e di pianificazione territoriale, e Cipart, gruppo di creativi della Comunità Nove. Ed è con loro che Osvaldo, insieme alla cooperativa Itaca di Pordenone e all'azienda sanitaria numero 4 di Udine, ovviamente Etrarte, è stato progettato. Ci troviamo nella sede della Comunità Nove, che è un centro di uno del Dipartimento di Salute Mentale all'interno del Parco di Santo Osvaldo. Questo è un locale molto colorato e tutte le opere che vedremo vengono realizzate da Cipart, che è un gruppo di artisti che lavora all'interno della comunità. I lavori vengono quasi esclusivamente fatti con materiale di riciclo. Il progetto Osvaldo vuole diventare un format di riqualificazione attraverso le potenzialità e risorse creative del territorio, realizzando attività culturali, laboratori per artigianato artistico, residenze d'artista con scambi europei, ma non solo. Il progetto Osvaldo vuole anche abbassare i muri del pregiudizio che spesso ruotano attorno al tema della salute mentale, una diversità che viene emarginata dalla società. Il coinvolgimento di giovani attraverso l'arte può diventare un approccio non invasivo verso queste nuove realtà, trasformando quello che poteva essere un pregiudizio in opportunità. Per realizzare Osvaldo Parco Progetti Creativi abbiamo bisogno del tuo voto per candidarci alla selezione finale, accessibile solo ai primi otto progetti più votati. E allora vota Osvaldo, vota il numero 27. www.chefare.com www.chefare.com